Non ho mai voluto commentare i provvedimenti del Presidente Conte per quanto concerne l'emergenza coronavirus, ma adesso come sindaci siamo stanchi e parlo come vicario Anci Puglia perché non possiamo sopportare che ci sono provvedimenti che lasciano dalle finestre aperte come la possibilità di fare footing, come la possibilità di uscire con i figli per fare le passeggiate. Qua abbiamo delle segnalazioni dei cittadini che vanno 10.000 volte al giorno al supermercato, al tabacchino con mille scuse e quando li fermiamo hanno queste autocertificazioni che non possiamo fare nulla. Ho chiuso i parchi, ho messo i singili e le panchine, ma non ce la facciamo più se non ci sono provvedimenti dal governo centrale che dicono non uscite e restate a casa. Scusate se mi sono arrabbiato cari cittadini, ma io ve lo dico per il bene vostro, per il bene dei foggiani, vi invito a restare a casa, di uscire una volta sola per fare la spesa e di non uscire tutte le persone della famiglia. Vi prego, ve lo dico per il vostro interesse e per l'interesse della nostra comunità foggiana. Insieme ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare e sono certo che ce la faremo, ma ci dobbiamo impegnare tutti.